Bella a tutti i FortniteArts, benvenuti su Leontube In questo video andiamo a fare la missione di trovare 5 forzieri dei giurati Allora, quindi vi consiglio di scendere in questo posto, ce ne sono 4, tutti abbastanza vicini Vi faccio vedere dove Allora, praticamente sono uno qui, uno in questo punto qui, uno in questa casa, ora sono atterrato male Uno in quest'altra casa e uno in questa Inoltre ne troviamo un altro qui, qui vicino, uno qui, poi un altro qui dove vi pingo Ovviamente potete farla anche in partite diverse Quindi non è necessariamente che dobbiamo farle in una singola partita Ma possiamo farle in partite diverse Infatti io ne ho già fatta una in un'altra partita Poi non escono le casse dei giurati, non spawnano tutte le partite negli stessi punti Quindi potrebbe essere che in una partita non la troviate Ora andiamo a vedere qui se c'è Ok, qui non c'è Quindi andiamo a vedere Quest'altra casa qua Oppure Voi scendete in tutte le partite quando atterrate Andate qui a strutture fallaci Fratture fallaci E qui Ne trovate sempre due Una qui e una qui Una qui e una qui In queste case Lì ci sono molto spesso Qui qualcosa c'è Ma è un forziere Eccolo qua Uno Inoltre con questa missione Facciamo anche Andiamo a fare anche La missione Sempre nella settimana Tanto qui mi sta attaccando Ok l'ho già fatta Quella di Ah eccola No eccola qua Raccogliere oggetti dei giurati Adesso andiamo a vedere Nell'altro punto Qui intanto dove è lui E lo fa domare Le scale Ecco Ok andiamo a vedere con il lupo Ok Ok Qui ad esempio non c'è Ok Non l'abbiamo trovato Comunque sono segnalati anche In quelle posizioni lì Oppure come vi ho detto Basta andare qua giù In uno di questi due Lo trovate sempre Quindi se il video vi è piaciuto Mi raccomando Un bel mi piace Condividetelo Condividetelo Con i vostri amici Nei vostri social Non dimenticate di lasciare un commento E se vi va Come sempre Invitiamo a iscrivervi al nostro canale Non dimenticate di cliccare la campanella Per non perdere i nostri aggiornamenti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.